La rivista Trantran intorno a Monza e Brianza e l'associazione culturale Harvey, in collaborazione con il comune di Monza, assessorato turismo e spettacolo, e con il patrocino della provincia di Monza e Brianza, presentano una campagna di sensibilizzazione sulle tossicodipendenze, ma non solo. Nel mio percorso artistico ho attraversato diverse fasi, dalla totale confusione mentale, dalla totale artefazione. Oggi mi rendo conto che la mia ricerca va verso la presenza, presenza mentale in quello che sono e in quello che faccio. E mi rendo conto che la lucidità è rivoluzionaria. La dipendenza può avere mille volti. Tu, non perdere la tua faccia. La lucidità è rivoluzionaria.